I decessi odierni registrati sono 21 nelle Marche, 14 donne e 7 uomini. Tra le ultime vittime, 8 erano della provincia di Pesaro e Urbino. Nell'elenco rientra anche un 73enne di Ancona che non aveva patologie pregresse. Il totale aumenta a 785 vittime di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. In regione i dimessi e guariti sono in direzione verso quota 1700 e numero ricoverati in calo da 994 a 952 nelle ultime 24 ore. Buone notizie anche per i ricoverati più gravi in terapia intensiva da 106 sono passati a 102 e semi-intensiva da 234 a 214. Sono dati comunicati dal gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, in diminuzione anche i degenti nei reparti non intensivi da 434 al 40%, mentre crescono, visto il miglioramento di diversi pazienti, quelli in area post-critica da 220 a 231. Attualmente il numero di contagiati nella regione è di 5.582, 23.718 i test, di cui 2.172 in isolamento domiciliare. Le persone venute in contatto con positivi attualmente in isolamento domiciliare sono 7.650, 4.227 con sintomi, di cui 1.208 operatori sanitari, in crescita da 1.190. I casi di positività sono arrivati a quota 2.249 in provincia di Peserurbino, 1.664 ad Ancona, 871 a Macerata, 378 a Fermo, 266 ad Ascoli Piceno e 154 riguardano persone provenienti da fuori regione.